Una volta la grande stampa internazionale ci aiutava a ricordare e a notare ciò che la stampa italiana faceva finta di non vedere e quindi descriveva Berlusconi per quello che era un uomo in rapporti con la mafia, un corruttore, un frodatore fiscale, un uomo in pieno conflitto di interessi, autore di leggi vergognose per i fatti suoi e per queste ragioni, oltre che per i danni che stava facendo all'Italia col suo governo, dissuadevano, cercavano di dissuadere gli italiani dal votarlo. Adesso collaborano con la grande stampa italiana alla grande amnesia. La ragione è molto semplice che i grandi giornali internazionali tifano per quello che tutti sanno che sia il progetto di Berlusconi e di Renzi, cioè quello di prendere i voti in nome di una coalizione di centrodestra e di una coalizione di centrosinistra, poi di scaricare i rispettivi alleati e di mettersi insieme in un governo molto obbediente nei confronti delle autorità europee, quelle autorità europee che poi tutti a parole fingono di criticare. Quindi c'è una corrispondenza di amorosi sensi tra i grandi establishment che tifano tutti per il governo Renzo Sconi, questo mi sembra evidente. Anche a costo di dimenticare che Berlusconi ha il suo braccio destro in galera per mafia ed è di nuovo indagato per strage.